La nuova circolare del Ministero dell'Interno in Sicilia non si applica. Mi riferisco alla possibilità che viene concessa ai minori soprattutto per poter fare in compagnia di un genitore la passeggiata vicino casa. Io ho l'impressione che in Sicilia si sia perso il punto di riferimento, nel senso che siamo tutti convinti che il peggio sia già passato e quindi possiamo permetterci anche qualche lusso. Purtroppo non è così perché il picco da noi deve ancora arrivare, non lasciamoci condizionare dalle notizie che arrivano dal nord. Dobbiamo rimanere a casa perché rischiamo di bruciare tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questo mese. Dobbiamo resistere ancora per qualche altra settimana. Vedo molta gente in giro, soprattutto nei grandi centri, e questo è davvero un comportamento irresponsabile sotto ogni aspetto. Non possiamo permetterci questo lusso, ecco perché continuo a seguire la linea del rigore e della fermezza. Mi dispiace. Ci sono casi particolari di persone affette da particolari patologie, minori e nonne. Bene, in quel caso, se certificati dal medico di famiglia, possono essere ammessi per fare un breve giro sotto casa assieme al genitore. Ma per il resto dobbiamo continuare a restare chiusi in casa, anche se mi rendo conto che la stanchezza comincia a farsi sentire. Ci sono appartamenti capienti, ma ci sono anche appartamenti di due, tre stanze, a volte un monolocale. Ed è difficile vivere per un mese chiuso in un monolocale. Però siamo in guerra. Non ce la possiamo prendere con nessuno. E questo nemico, non lo conosciamo, è invisibile. Ma sappiamo che cammina con le persone. Quindi più ci muoviamo e peggio è. Un altro sacrificio in più. Prepariamoci al picco che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Il sistema sanitario siciliano sta facendo tutto quello che è possibile, come ha fatto finora, per affrontare l'urto. E vedrete che con grande senso di responsabilità, se restiamo tutti uniti, ne usciremo bene da questa vicenda. Vi ringrazio.